famosamente ha declinato ogni... è The King è The King è The King sfatto e contento The King ti ha dovuto un po' le tere che tu hai andato tutte ah, un tempo l'hai dovuto che lo ha fatto The King prima, eh, si continuiamo la partenza The King no, prima di qua la gente prima hai fatto 12 testatelli oh, 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 oh ma lo staggo il bravo no The King ma che altro fai? bimbi, io... ma c'hai le ossa te le cose? quanto c'hai da eh la questa sera? te lo so c'è un vecchio ma mi rende successo, brah ma io domani non c'è il ciclino tutto eh mi dà la ferro a tira sul culo? no, ma te lo metti sul serio ok, perfetto non domani dopo domani se non è ancora un lavoro io proverei a fare il cicletario vuoi rubare le ciclette non rubare queste qui perchè non c'è posti io faccio vedere uno dei tuoi numeri ma è perché nooo la possibilità è che cade sul fumato esatto ma perchè lo fa? e lì è... è lontato la piazza ma l'ha fatto una tura e lì è passata ma noo perchè non ha reazioni e così non è un uomo c'è l'argetto di chi? perchè non reagisce il tuo cervello? no, vabbè, vabbè eeeh 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 colpa dove non è cazzo guarda 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 che figata guarda hai visto? ha un rumore della patote sono un altro giallo guarda questo parli un mezzo litro vai vai un mezzo litro io c'ho picocicla ma se vedi tu lì su pochi no, comando a dirava per cavolo si è stato e non mi si è fatta la birra non ci crede mica ci c'ho ci c'ho ancora le vostre le cure le king ce la stai facendo una cosa su quelli schicchi dai e non c'è il le king dai non ti metti mai ma se io non caso io ve lo dico sui e non c'è perché sei king qua e tu è il leico è il leico è il leico ma se ti vuole lo questo vale è il leico dai buono è il buono che fortissimo ma non me lo vedo il sello eh si 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 ma non me lo vedo il sello si spalla proprio sul lito e chi? quanto ci ha dato? non lo so ma non mi ha pagato nessuno La più grande ha 12 anni la signora. Quanto hai dato Samantha? Vado a messaggiare. Un euro. Un euro ci hai dato? Hai già fatto 12 prove. Dai, vabbè. Per chi so perché mi diverso con te. Dai, 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 dai! Non mi spiego perché non lo reggisci presa. Hai fatto di lui. Per chi ci sarà il tuo stesso mondo, io sarò sempre l'uomo più felice del mondo. Però ti pulisco di nuovo, mi sto... Sono ornei di vivere la muschia di un tante! Che si fa che non per vivere la muschia di un tante? Secondo me deve fare la pubblicità di media shopping. Guardate! Grande! Aspetta che ti pulisco il top. Vieni qui, pulisco la pia da Miramano. Vieni qui, pulisce. Guardate qui, non è te che ti pulisco. Ma porco! Poi! Sto proletta e ricordate. Domani non è mai mai formato che ci sarà più scritto cosa che hai detto a bo mamma. Massimo vi lo fanno annuncia! Questi video su YouTube, eh? Si rimanco l'89! È il nome? Eh, eh. Il nome originale è Luca, Marianne. No! 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 No!! Eh? Miss Dregger, ma perchè tu cazzo così tanto la musica in realtà ti vuoi esprimere di tu? No, no, l'ho convertito io! L'ho convertito io! Nel senso, diciamo, ma come ti so questo qui? No, se sono vero super finito! Mi permetta, mi permetta H9, però! C'è per tutti H9! Eh! Ma cosa significa questo H9? Cosa significa? H9, 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 è l'annata! C'è mi puoi… ... perchè sono andato l'89! A Katherine! EEEEEEEEEEEEÉIs!! Ma to careful! L'89 dovrebbe essere stato un gran peato. Ma, l'ultimo 89, ちょما è successo? No, cavera, hai Eisenhower, sequ fault!